Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti al cacao con crema pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo doppio zero, cacao amaro, zucchero, lievito, burro, sale, vanillina, uovo e tuorlo, crema spammabile pandistelle e stelline di zucchero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità a 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, il cacao amaro, la farina, l'uovo e il tuorlo, il pizzico di sale, la vanillina e il lievito per dolci. ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità a 5. formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per un'ora. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso stendiamola tra due fogli di carta da forno. Con l'aiuto di un coppapasta di 7 cm di diametro formiamo dei dischetti. dopo aver formato i dischetti adesso li andremo a farcire con la crema pandistelle. chiudiamo le due estremità sovrapponendole. schiacciamo bene e posizioniamo le stelline di zucchero e continuiamo così formando tutti i biscotti. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 12 minuti. i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. biscotti al cacao con crema pandistelle grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti